ok ragazzi questo è un vlog che metterò su youtube nel frattempo perchè mo vi dico soltanto che resetterò il canale youtube cioè la stella della puglia o strada a puglia ma devo vedere perchè non mi ricordo più questo devo vedere questo è mio fratello e devo parlare con lui se settiamo perchè non si capisce niente questo è l'ufficio mio diciamo ufficio però è la mia parte ecco questo l'ho comprato oggi insieme a questo e altro e compagnia cantante ma questo lo creato io qua invece set questo questo set dipende insieme a questo e questo a tiger invece questo questo è quello il treppiede che sto usando per mantenere il telefono 10 euro e da 10 euro e 20 centesimi insieme a un'altra cosa ho comprato eccole queste le pile per il quello questa è una borsa che mi hanno dato a tiger quando sono andato secondo che devo mettere alcune cose quella la chiave questa chiave che devo mettere alcuni file che sono della sinagoga della c'è parlo prima una cosa io venerdì sono nato cioè io sono nato a un gita e sono nato al sinago a una sinagoga e quindi mo tutte foto che ho fatto le sto mettendo in questa chiave in questa chiavetta che tutto mi hanno concesso stranamente penso che non dicevano no però invece mi ha detto fai foto fai foto nel frattempo sistemo alcune cose ecco allora avete sentito su noi perché qua c'è la parte piccicosa che non riesco a capire come toglierla questo è tutto che questo è nuovo insieme agli altri cose che ho comprato per esempio sistemiamo questo è come per dire il sistematore il sistematore quello che metterò ecco qua che riordinerò qua c'è sotto invece c'è sotto il computer e altro che devo utilizzare poi fatto questo piccolo vlog perché da tanto tempo che non faccio video su youtube forse da un bel po di mesi qua c'è il pigiama che devo mettermi dopo che mo sto sistemando vi faccio vedere anche l'armadio che ho sistemato perché prima non c'era questo armadio per me lo da grande perché me lo da grande ok questo è quello che per ora è il futuro ma c'è il armadio che è ciò che poi do andare l'ikea e comprare altro tipo di mobiletti dentro il mobile però qua invece abbiamo il cambio qua questa è una borsa dentro una borsa dentro la borsa qua c'è il cambio stagione quelli pantaloncini quella e la maglietta questi invece faccio vedere direttamente che cosa è un secondo ok questa è una borsa dentro un'altra borsa dentro che stanno dentro questa borsa che se mi ricordo qua stanno sta una di questa parte o dell'altra la catena questa perché c'è la tracolla questo è un posto a compiuto insieme a questo che diciamo borsa zaino sembra c'è borsa della palestra che mo devo incominciare ma devo vedere se incomincio perché c'è un fatto una peculiarità in formiglia che devo aspettare che non vi dico niente perché è una cosa privacy ecco io ho gesù giuseppe maria pure un po c'è il cambio la cifra e sciarpe che ho messo a posto la ci sono alcune giacche primaverili un po meno pesanti che però lo stesso forse l'utilizzerò tipo ad aprile maggio per me ci sono alcune cose così giubbotti pesanti insieme a quelli mia madre devo vedere se riesco a dividere poi mi faccio vedere nel frattempo il cane mio ercole ciao nel frattempo c'è la la chiesa che non so a perché oggi ci sono e crescime quindi molto è finita mo è finito tutto quindi mo olè costui mo devo chiudere cioè mo devo aprire in realtà non chiudere però ok questo dei carriere mo ecco sta qua la mia bacinella che mi serve ma per farvi così questo video in realtà è perché è da tanto tempo che non sto su youtube e se l'ho detto prima forse l'ho detto già prima però ora lo ridico oddio che dopo risetto quando pubblicherò questo video risetterò il canale youtube perché voglio che mi si ricominci di tutto da quello che era un gaming ora voglio che sia tipo un vlog così una cosa divertente e rilassante ecco parlare insieme così io non sono da solo voi non state da soli e così è più divertente diciamo ecco qua nel frattempo mo oggi è l'ultimo giorno gli saremo che sarebbe per chi non lo conosce sicuramente lo conoscete tutti è la festival della canzone italiana nella prossima puntata del podcast che fosse uscirà domani sicuramente oppure lunedì però vi dico forse è certo che domenica cioè domani uscirà una puntata speciale su salremo dove parlerò di alcune di un fattus symbol di un fattus symbol non mi ricordo vabbè di un fattus Parte 2 di alcune cavori di di un fattus symbol di completamente grazie a adattunię ris Producer e anche sicuramente per voleandomeri Joyba che fattuto non mi ricorda di un fiattuto di Luigi a Genova tipo la morte di перек Tre sparito di Flore a Genova appunto ci sono ancora un fattus lembre da roba di Sanremo e di alcune peculiarità che sicuramente tipo negli anni 90 sicuramente per chi c'era c'è stato una persona che si vuole buttare dal balcone di Sanremo che è stato fermato poi e poi anzi parliamo anche della scomparsa del duo di una canzone dei vincitori di Sanremo che mi ricordo male di parole era la canzone del 2000 no 2000 negli anni 90 o 2000 scusatemi ora non mi ricordo perché posso dire non sono dei quei tempi io sono del 2010 ad oggi io sono 2008 sono 08 io già mi identifico un po un anziano però non sono anziano e vabbè però io qua che sistemo vi parlerò anche come vlog su youtube di alcuni ricordi sicuramente oppure vi farò vedere un po la casa di il good morning good morning il morning la morning routine se c'ho voglia ecco se c'ho voglia la morning routine oppure poi la night routine anche forse quella è un po impossibile farla vedere perché perché ci sono i miei genitori e quindi forse quella non uscirà mai ecco forse quando prenderò casa nella mia nuova casa che vabbè avrò vent'anni diciotto e passa vai e passa avanti e poi questa è una borsa che non riesco a chiudere un secondo ah questo è il è quello che mi ha dato al B-Comics che ho detto nella nuova puntata di della vita di un miscegliese lascia il cane che dorme sempre non lo disturbiamo quindi un secondo ora sembra un secondo D-Com sicuramente avete visto le mie foto di Instagram dove ho pubblicato le foto della della sinagoga lì dentro ecco è quella di Scolanova cioè quella di Scolanova è quella di Sant'Anna io non la posso in un fratello eh mo si stremo un po' che non vedrete ecco ok nel frattempo eh spero che questo video vi sia piaciuto e mo vado anche a editarlo nel frattempo metto le foto dentro questa schedina questa schedina questa chiave ecco con una schedina questa chiave è di 128 gigabyte che esporto tutte le foto eccetera eccetera così se per sbaglio le prendo su telefono almeno ce li ho anche nella in questa e arrivederci